L'arte è per ricordare le vittime del lavoro e sostenere le loro famiglie. Fino al 10 agosto la Sala Mostra della Regione Piemonte, in Piazza Castello 165 a Torino, è visitabile l'esposizione Art et Lavoro. Si tratta di una collettiva di 60 autori, le cui opere saranno vendute all'asta a settembre. Il ricavato sarà devoluto interamente al Fondo di Solidarietà Vittime sul Lavoro, gestito dall'Agenzia Piemonte Lavoro. La mostra è visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito.